Finalmente primo appuntamento di Alghero Next, tocca a me inaugurare questa stagione le ultime due settimane pre-elettorali dove ci presentiamo come gruppo a supporto del candidato sindaco Francesco Marinaro, un gruppo formato da ragazzi giovani, oggi si parla di sport, oggi si parla di progettualità di sport Francesco ci sta dando questa grandissima occasione che è quella di lavorare con lui, per lui e per Alghero coglieremo la palla al balzo rimanendo in tema sportivo, pronti a lavorare, pronti a produrre, pronti a essere attivi verso i ragazzi che sono presenti qui oggi, verso tutti i ragazzi che rappresentano Alghero faremo bene, io faccio l'anziano del gruppo oggi con i miei 29 anni, pronti a partire tutti dentro a seguire questa bellissima cosa che stiamo creando tutti insieme grazie a tutta Alghero e a Francesco Marinaro fa immensamente piacere che voi ormai vi siate lanciati nella programmazione dell'agenda della città voi con questi incontri impegnate l'amministrazione come vi ho detto più volte a centrare gli obiettivi che voi di volta in volta ponete l'argomento di oggi è poi fondamentale perché sono certo che Diego mi vorrà richiamare all'impegno che io ho assunto nella costruzione della cittadella sportiva quindi al di là della valenza in senso assoluto di ciò che state facendo in termini sociali, proprio l'impegno che state costruendo per realizzare insieme con noi una città a misura di giovani